Buongiorno a tutti, video dedicato a chi segue Scuola del Fai da Te 11,1 Ampere moltiplicato 13,8 questi sono i Watt che in questo momento stanno andando a caricare la batteria ok, i pannelli sono fuori sul balcone l'inclinazione non va bene visto il sole però questo l'ho messo ieri, forse è quello direzionato meglio ma purtroppo sul balcone non potete fare quello che volete questo è un sole alle 9 e mezza di mattina possiamo forse arrivare a 13 verso le 11 e mezza poi a mezzogiorno di qua il sole va via però ragazzi meglio di niente i pannelli non li posso direzionare proprio come voglio perché devono essere messi in un certo modo e non pericolosi e non troppo sporgenti perciò quello che riesco a ricavare dal mio balcone è questo ok, tre pannelli grandi e uno piccolo pannello da 230, pannello da 120, pannello da 100 e pannello da 20 tutta sta roba qua ragazzi per avere per avere ecco in questo momento 11 11-12 ampere si era visto prima per 13,8 perciò sono 150 watt effettivi che stanno andando alla batteria ok tutte queste cose ve le insegniamo e ve le facciamo fare ai nostri seminari del fai da te e alle nostre scuole di pratica ciao a tutti dal progetto 21 e dalla scuola del fai da te ciao a tutti